Teledurruti, tornando verso casa, decido di fare una breve sosta qui al cimitero cattolico di Roma. Andiamo a trovare Gramsci. Eccolo lì, Gramsci, dietro questa siepe. Mario Zagari era un ministro, non ricordo più, comunque della maggioranza. Ha parlato il ministro Zagari, così dicevano il gatto Romeo, ha meritato una lapide. Eccolo Gramsci. Quanti fiori. E anche i sassi, sono quelli che vengono deposti dagli ebrei sulle tombe. Eccolo Gramsci. Eccolo Gramsci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.